E' il giorno della verità in casa Palermo. I Rosanero giocano la sfida più insidiosa e complessa dell'intera stagione. Un torneo tribolato in cui la squadra ha iniziato a sfoderare gli artigli con l'inizio dei play-off per la promozione in Serie B. E' grandissima l'attesa per il return match di oggi contro l'Avellino. Nel ritorno del primo turno nazionale degli spareggi la formazione di Giacomo Filippi parte con i favori del pronostico grazie al successo centrato al Renzo Barbera ed è la possibilità di passare il turno anche con il pareggio. Ma sarà tutt'altro che semplice. Al Partenio ci si attende una battaglia sportiva e agonistica a tutti gli effetti. Ai Rosanero servirà giocare con la testa e con il cuore così come ha chiesto Filippi. Per la gara di questa sera per il tecnico c'è un ritorno importante in squadra. Si tratta di Gregorio Luperini che ha scontato la giornata di squalifica e ritroverà il proprio posto al centro del campo. Accanto a lui spazio a De Rose con Valente sulla sinistra e probabilmente a Cardi a destra. In attacco ci si attende qualche novità dettata dalla necessità di fare i conti con la stanchezza. Roberto Floriano, match winner dell'andata, dovrebbe ritornare a scendere in campo sin dal primo minuto. Per gli altri due posti sono in ballo Canutè, Santana e Saraniti. Grande ancora una volta è stato l'apporto della tifoseria che ha voluto salutare la squadra prima della partenza verso Avellino con l'ennesimo dimostrazione d'affetto allo stadio Renzo Barbera. La gara fra i Campani ed il Palermo avrà inizio stasera alle 20.45 e sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport.